Guardala qui, chi è tornato a trovarci? La Dottoressa Victoria! Non posso non andare a regalare questa incredibile skin a uno di voi iscritti al mio canale! Perciò mi raccomando, iscrivetevi ora, attivando la campanella delle notifiche droppate subito un bel like furbetto! Tutti i regali, non è vero, vi è regato in corso, ora tutti i regali sono stati consegnati! GG e buon divertimento con la Dottoressa Victoria! E soltanto se vi piacciono i miei video, all'interno dei cazzoggetti di supporto al canale più bello, più fresco, più croccante del centro Italia! Only one code R4SCO! Bella tutti qui, rasco, e oggi siamo da radio a sorpresa qui su Fortnite! Non ci stiamo deltavolando all'interno di semi da grifoglio, ma siamo arrivati all'interno di un bel punto mistico! Attenzione perché qui possiamo trovare qualcosa di molto fresco! Come si entra qua dentro? Eccolo qui Mastro Call, dobbiamo parlare proprio con lei signorino, buonasera! Vediamoci da raccogli pietri, distruggipietre, del metallo, ed eccone qui le doppie pistole salterine! Le paghiamo 500, io direi che le prendiamo, sì sì che le prendiamo, let's go! La prima volta che provo ufficialmente queste pistole le proverò con voi, vediamo se c'è altra robetta! No, non c'è niente di niente! Grazie mille dottor Call, non so se lo ammazziamo, se ci dà qualche altra cosa, ma no! Noi siamo per la pace, per la libertà e per la sopravvivenza della specie di Fortnite, in questo caso degli NPC! Ok, andiamone a provare, vediamo, cioè non penso che... Vabbè, uccidiamolo! Ok, doppio shot, che succede? Pistolissi, pistole normalissi! Oh mio Dio, ho il super jump! Ho una roba... Ho il super jump! Ho come se mangi... Oh no! Questa roba è al... No, fermi, fatemi trovare un pompa e andiamo a pushare tutti quanti! Questa roba è allucinante! Ok, è guerra e battaglia a tutti gli NPC! Signorina, buonasera, mi dispiace... No, non ci scelgiamo! Vediamo che cosa... Eh sì, è ufficiale! Possiamo sparare e abbiamo il super jump! È una cosa stupenda questa per pushare tutti i nostri player avversari! Oh mio Dio! E tra l'altro questi mi stanno droppando una marea di roba! Qui abbiamo un balcecco! C'è un pump in que... Oh, c'è pure il pump! Oh mio Dio! Siamo scesi dall'interno della cattedrale dei sogni, amici miei! Vi volevo far vedere subito anche dove si trova l'altro pump, ma a questo punto io direi troppiamo il cecchino e andiamo subito a beccare qualche playerino per fare qualche killetta bella fresca! Va bene che abbiamo solamente otto colpi! Io ho già annusato qualcosa che non mi piace con queste doppie pistole, perché per poterle ottenere possiamo andare solo e solamente all'interno di questa baita sperduta nel west! E il problema è che la safe non chiuderà mai da noi! Quindi dobbiamo farci assolutamente sempre chilometri! Occhio in cui è stata gente! E occhio il nuovo pump! Fucile pesante a leva! Ok, buonasera signorino! Oh mio Dio! Si carica come se fosse, credo, una revolver! E' un po' strano questo pump, sinceramente! Aspettate, aspettate, aspettate! Cioè, fatemi vedere! Testiamo un attimo queste pistole! Se io dovessi magari scendere, no? Mi buttano giù le ground! Faccio così! Scendo! Non dovrei prendere danno! Ci vediamo in un altro game! No! Ufficiale! Oh! Questa cosa mi piace! Possiamo fare davvero tante cose con questa bella robetta! E vediamo anche questo pump se è stupefacente come tutti i pump che aggiungono! Solitamente quando mettono una nuova arma è sempre OP! Vediamo se questo pump sarà OP! So che esce di diverse rarità! Stanno sparando nel mentre qua davanti sulla destra! Andiamo subito a beccarli! E se volete partire subito con questo pump vi consiglio di andare all'interno di Hydro 16! Perché c'è quella sorta di boss cattivissimo che tra l'altro ci troppa! Un bel AK oro! Un bel aranciarazzi oro! E in più possiamo anche prendere questo pump nuovo! Che non è niente male sinceramente! Ok non trovo nessuno! Quando devo incontrare qualcuno non incontro mai nessuno! Quando invece voglio la sopravvivenza mi vengono sempre a killare i 17.000 persone! Eccolo lì un altro signorino! No! Si è buildato una struttura! Vi faccio una cosa! Lo flanco! Ah no è venuto avanti! Sì! Ehi là! Non è che muoio! No! Meno male meno male! Ah ok! Anche se finisce l'effetto! Però se è saltato con l'effetto non muori le granate! Maledetto! Oh! Ok! Ora mi ha fatto male! Ehi là! Ma signorino dove va? Ma arrivederci! Grazie mille per questa easy kill! Ma sono fortissime se i pistoli regali tolgono 43 a botta! Se prendiamo headshot come l'altro kill abbiamo fatto una roba come 73-74 mi sembra! Non sono affatto male! Secondo me le fixano! Cioè le fixano per forza perché comunque sono sia utili per muoverci quindi per il moving e fanno anche una bordata di danno! Pulite! Ehi là! C'è qualcuno che vuole assaporare le mie doppie pistoline! Venite fuori amici! Venite a giocare con la signorina Trina! Ok si stanno prendendo ammazzate qua sotto! Fermi! Vediamo 41-42! Vabbè non è male! Toglie una marea occhio! Andiamo a prendere anche quest'altra signorina! Ehi là! Dottor Deadpool! Buonasera! Cucciolino! Fatemi vedere se abbiamo magari il pump questo qui nuovo blu! No! Nemmeno l'ombra ti pareva! Occhio! Double pistole! Jump! Ok! Onesto! E ora double jump! Oh! Ma con quale grazia stiamo salendo! Le adoro queste doppie pistoline! Solo che ogni volta che le devo prendere 500 dobloni! E poi se me le rubano, cosa molto probabile, non so se le andrò a riprendere! Però sono davvero fighe da provare! Occhio! Ah! Mi sembrava il nuovo pump blu! Peccato! Ok signor airdrop! Mi dia il pump blu! Vediamo se invece vi ho detto una fesseria! Pump blu! No! Blef! Abbiamo fatto però una challenge gustosa! Ma che cos'è? Cioè è l'airdrop! Ma dai! Ma due cose mi ha dato questo airdrop! Ma che vergogna! Ma che... Ehi là! Signorino ti ho visto! Io regà faccio una pazzia! Ok! Io vado direttamente addosso! Da un albero all'altro! Orca miseria! Questo mi ha preso! Via via! Scappiamo tra gli alberi! Robin Hood! Oh via via! Che figata! Via 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 via! Che spettacolo sta roba! Ma quanti shieldoni ci sono? Qui è la terra dello shieldonius! Ci sono tipo... No! Questo me lo prendo ma l'altro non riesco a prendermelo! Andiamo in safe! Andiamo in safe! Sparo e salto! Sparo e salto! Lesgo! Onesto! 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 No! No! Ok! Devo farci l'abitudine però! Solo che ovviamente se spariamo tutto il mondo sa dove siamo! Però non possiamo non saltare se non spariamo! Ok! Dobbiamo trovare un compromesso tra questa cosa! Ma io continuo a sparare come... Come un leprotto! Anche perché mi piace troppo fare il canguro! Cioè! Ho il super jump infinito così! Che goduria! Che è che mi sta sparando! E la signorina! Vediamo un po'! 31 dalla distanza! Oh mio Dio! Forse abbiamo trovato l'arma perfetta! Regà! Cioè! Fa danno anche dalla distanza! 31 no! Ho preso la macchina questa volta! Quindi andiamoci nel safe! Lasciamola perdere! Oh! Stai caro! Oh! Oh! Ma chi è che ci spara? Regà! Fermi 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 fermi! Chi diavolo è che... Dove... Ok! Si stanno fai dando! Quindi a noi non ci dovrebbe interessare questa cosa! Io me ne vado! Ma... No regà! Fermi! Oh! Ma chi è che mi spara? Via via via! Canguro salterino mattene! Da dietro ci stanno lanciando una serie di frecce! È diventato il Texas Fortnite a sorpresa! Ce ne andiamo belli puliti in safe! Dobbiamo prendere l'high ground! Ma con queste pistoline mi sa lo prendiamo easy! Solo che tutto il mondo sa dove siamo! Non posso continuare così! È troppo divertente! Ormai sono assuefatto da questa roba! Oh! Un playerino laggiù! Lo andiamo a prendere! Speriamo che non è la mistica di prima che mi sembrava abbastanza in forma quella signorina! Non abbiamo più tanti... Stanno cecchinando! Oh! Colibri! Oh! Siamo attenti! Quello non scherza! Dove diavolo è? Ehi la signorino! No! No! Ok! Mi stanno sparando tutti a me! Meglio non fare questi fight! Meglio aspettarli anche perché... Va bene le doppie pistole! Però non è che fanno tantissimo danno! Cioè! Non è semplicissimo mirare dalla lunga distanza sinceramente! Con un R miriamo meglio! Effettivamente! Torniamocene qua! Umili! Ho beccato un leprotto qua sotto! Mi butto all'arrembaggio su di lui! Venga qui signorino! Ha preso la macchina? Occhio perché... Mi sa che ha preso la macchina! Official dov'è? Ok! C'è una... È quella mistica di prima! Bye bye! E qui con... E qua sopra! E qua sopra! E qua sopra! Ok! 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 Stai tranquillo amico mio! Vieni qua! Ti faccio assaporare questo... New pump! Oddio! Ma dove... Dove diavolo è? Dove è? L'eprotto? Dove sei? Eccolo lì! New pump! Credo che sia lui! Occhio! Se no ci killano... Sì sì lo devo assolutamente andare a prendere... Ok! Lo abbiamo preso! Questa tempesta ci sta facendo malissimo! Salta 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 cangurello! Ok! Ci siamo! Abbiamo finito tutti i mazzi per prendere... Quella roba? Dove diavolo... Ma non mi dire... Ma questo... Ma tu mi sei di bottazzo amico mio! Occhio! Let's go! Toglie una fracca questo pump! Anche se quasi quasi mi prenderei quest'altro oro sinceramente! Mi serve un medikit ma non ce l'abbiamo! Ok! Ok salterino di qua... E salterino di qua... Mamma mia come ci muoviamo! Sembriamo delle farfalline! Uh! Guardalo qui un bel medikit! Basta chiedere al signor gioco di Fortnite! Grazie mille Fortnite per ascoltarci sempre! Quasi sempre! Ma vi posso dire che sono anche stupende da vedere queste doppie pistole! Sono davvero bellissime! Hanno messo un'arma incredibile all'interno del game! E ora sono curiosissimo di vedere all'interno dei prossimi aggiornamenti cosa vanno a mettere! Occhio che qui hanno buildato i furbacchioni! Che c'è? C'è qualcuno amici miei? Io me ne sto sugli alberi! Come Robin Hood! Oh! Forse meglio di no! Signorino salve! 36 36 Era l'ultimo player! Let's go! Posso dire lobby livello pulcini 2000 Ma una vittoria reale è sempre una win royale! Amici miei spero di passare in questo video se vi è piaciuto! Mi raccomando! Il supporto ancora più bello del centro Italia! R4 Iscrivetevi al canale e attivate la cappellina della notifica! Troppate un bel like furbetto se ancora non avete fatto! Queste doppie pistole sono assurde! Forse ufficialmente la mia nuova arma mitica esotica! Non mi ricordo più come si chiamano esotica! Più bella più fresca all'interno del game! È divertentissima! Peccato che la dobbiamo sempre pagare! Però vabbè io avevo 10.000 dobloni! Quindi ogni tanto lo andrò a scioppare! Fatemi sapere per il momento qual è la vostra arma mitica qua sotto preferita! Qua sotto all'interno dei commenti! Vi lascio due video sopra il vostro schermo! Quindi mi raccomando andateli a vedere! Noi ci vediamo all'interno di un prossimo video! E... L'estra!